Alla Herbalife abbiamo gli scienziati di classe mondiale che fanno delle ricerche sugli ingredienti che offrono i benefici nutritivi migliori e includiamo i progressi nella nutrizione dei nostri prodotti. Utilizziamo solo gli ingredienti più benefici e non accettiamo altro. I nostri sviluppatori chimici e scienziati utilizzano degli strumenti avanzati e analizzano ogni ingrediente e testano l'efficacia dei prodotti finiti. I nostri due centri di produzione, uno in Cina e l'altro in California, superano gli standard richiesti e rafforzano lo sviluppo globale dei prodotti e la posizione della supply chain e supportiamo meglio i nostri distributori. Noi educhiamo i nostri distributori sui benefici dei nostri prodotti, sugli ingredienti che li rendono così speciali. Tutto questo è alla base della filosofia Herbalife. Herbalife fissa gli standard utilizzati per giudicare anche altre aziende. Il Macium Cellular Molecule Nutrition Laboratory all'Università della California è stato creato grazie a un fondo Herbalife per promuovere la ricerca nella scienza nutritiva umana. Abbiamo anche offerto un fondo al Centro Nazionale per i prodotti nazionali per consentire di studiare piante che potrebbero essere utilizzate per i prodotti Herbalife. Noi della Herbalife sappiamo che una buona nutrizione può migliorare la vita delle persone. Siamo una forza da 30 anni e siamo impegnati a continuare la nostra missione per quanto riguarda la nutrizione.